Sono quattro gli autori della frode ai danni della Marina Militare Italiana che la Guardia di Finanza è riuscita a stanare a seguito delle concluse indagini preliminari dell'operazione Navi Sicure. L'operazione, iniziata a seguito dei controlli sugli appalti pubblici, si è successivamente incentrata sulla fornitura dei sistemi di spegnimento di incendi che sarebbero stati installati a bordo di alcune navi della Marina Militare Italiana. Durante i controlli è emerso che la società subappaltrice, incaricata dalla fornitura di gas estinguente, aveva consegnato ai cantieri navali della Fincantieri un primo blocco di estintori, apparentemente conforme agli elevati standard di sicurezza richiesti, ma che in realtà si sono rivelati un prodotto diverso, di qualità e di prezzo inferiori. I responsabili della frode avevano apposto sulle bombole di gas un marchio contraffatto riconducibile ad una multinazionale statunitense, produttrice esclusiva mondiale, ma in realtà si trattava di un fluido di origine cinese di un fornitore albanese. Nel corso delle perquisizioni nei cantieri navali alla Spezia, Genova e a Napoli è emerso che alcune bombole erano già state installate o in procinto a bordo delle navi militari in costruzione, mettendo così a repentaglio la sicurezza e la funzionalità dei sistemi antincendio delle moderne navi. Il prodotto, pari a 3.000 kg di gas estinquente, è stato sottoposto a sequestro e i responsabili in tutto quattro sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per i reati di frode nelle pubbliche forniture, aggravata dalla circostanza che si tratta di equipaggiamenti delle forze armate dello Stato e di contraffazione e alterazione di brevetti.